che l'hanno fatto pure a mettere una volta ricordi che mi aiuta alla cibo da buonanotte da monta la piana come? come aereo manca le dieci e quanto tempo siete stati sfogliati? tre mesi non è una quella non è una quella urini di picca si chiamava avevano fatto tredici anni di guerra quello che già avevano stato alla guerra sono stati prigionieri quando eravamo noi con la mandralla avevano la tedesca avevano messo la corda per il telefono proprio in mezzo alla mandralla qui si si dicevano da città con la tedesca e lui ha detto i miei figli avevano la mia moglie come gli altri vicini sono stati in fondo dell'acqua e lui ha detto vabbè e lui ha detto Tutti i devoli, la cacciata in terra, tutto i devoli, a capistare. C'è la mia moglie che mi ha accettato. Non c'erano venuti quella qua. La passata venne per farci la maesilla, che sapevano quella per gli urzoni. E l'inglese stavano a Irk e le tedesche stavano a Irk. Ma quello che stavano a Irk stavano a Irk stavano a Irk. E io l'inglese, ma l'inglese non mancava, no? E le tedesche stavano a Irk, perché l'inglese non ha più forza. Le parecchie, mamma mia. Vedi quando ti passano le peccione a cucire le parecchie? Le parecchie. Le parecchie, le parecchie, le parecchie, le parecchie. ieri, dentro la lulaca, stavano lulaca, stavano moline, non c'erano le sicure le lulaca. Lulaca? Eh, lulaca, l'acqua. Allora c'erano due parecchi. Comunque in questa zona andavamo indire le parecchi le caschette. Ma io mi sparavo, come caschette? Speravo, per lo contrario, no. Ma gli stavano le mine, gli stavano le bombe, stavano parecchie. Eh, dove si arrivava, gli stavano le bombe. Eh. Io, guarda io, questo è che, vicino anno con la ciotola, con l'acqua, con l'acqua, la ciotola, le vacche, le purce, le pecre, mezzo la prete, mezzo la terra, scopato le mine. Ah. 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 Ah.